ecco l'albato dai sui piedi quindi che se mi devo toglieri? non c'è un po' lì? beh, vai in un po' lì e poi lì in un po' lì io sulla barca vado bene la mia barca mentre c'era una barca semplicita, semplicità mi sono portata a tanti di quei vestiti non c'è un po' lì 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 queste donne sono portuguesi questo tent, questo village was founded by portuguesese fishing people e questi sono i matriarchi perché gli uomini sono sempre fissi in l'oce e loro fissi e loro fissi 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 e loro fissi si la posizione il Guardala! Guardala qui! Robi, vieni! Sono qua, sono qua! Sono qua! Guardala! Guardala! Oddio! Dai, non ci venire la coda! Vabbè, mazie! Guardala! 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 Sìììììììììììì! Ecco la banda! Ecco la banda! Eccola, mandala! Ello! Guardala! Guardala! Eh! Guardala! Magììììììììììììì! ahahahahah mamma mia che buono arriva di qua eh quella che buono oh ma che grande questa ah donna non mi sto dare ah sono due tre wow una un buon un buon il rado il rado è che questo Grazie a tutti. Oh mio Dio Dio Dio! Oh mio Dio Dio! Guarda! Viene sotto la barca questa! Oh! Ho detto che era sotto la barca! Oh mio Dio! Oh mio Dio Dio! No ma se intenzione per rumore! Oh! Oh! No va bene! No va bene! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.